Bella raga, qui è 202087 e oggi siamo su Ghost Miner Cos'è Ghost Miner? Non lo so, è un gioco che ho trovato su ModDB Da qua vedo Aerobrine e c'è scritto Basato su Slendy Tabis e Minecraft Raga, ho paura perché questo gioco Non l'ho visto giocato da nessuno Non l'ho visto giocato da nessuno E non ho neanche la minima idea di che cosa sia Vi diamo comandi per non fare figure di merda Guarda, ci si muove ma io ho già modificato tutto Left Shift Run Sinistro prende gli oggetti M Mappa e Space Bar Ok, con coraggio Aspetta, M E' proprio Minecraft Raga, basato proprio su Minecraft Diamond 5, Zex 5 No! Colazzo! No, non dirai tutto così il gioco Io bassi il volume Mi sa che avrei già dove devo trovare le cose Tramante trovato uno Mappa Dove che... Dato sono solo meno dove sono L'ho visto solo all'ultimo Solo all'ultimo l'ho visto Per cazzo ragazzi Sono soltanto a due minuti E io devo rifare No, no, col cazzo Vi metti i link in descrizione Ve lo giocate voi Perché a me è già bastato Basta Basta Sono un codardo Lo so Non ce la posso fare A fare queste cose qui Raga Questo coso ve lo giocate voi Vi metti i link in descrizione E ci giocate quanto cazzo ci volete Basta Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Ci vediamo nel prossimo video Raga, è basato proprio su Minecraft Diamond 5, Zex 5 Cazzo No, non direi tutto così Gioco No, non direi tutto così 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 Grazie a tutti